Sabato 20 aprile, presso il Parco della Scienza di Teramo, si svolgerà il convegno Le Nuove Dipendenze. Giorgio D'Ignazio, quali saranno gli interventi scientifici durante il convegno? Sì, abbiamo cercato di coprire tutto il ramo, nel senso avremo un impatto di razza proprio quello con il dottor Profeta, responsabile del CERT, avremo il dottor Gaetano Ruggeri che è il responsabile della comunità Mondo Nuovo, quindi il recupero dove si comincia a parlare di recupero anche dalla dipendenza del gioco, la professoressa Monica Mazza dell'Università dell'Aquila, psicologa, psicoterapeuta, abbiamo il dottor Massimiliano Ettore, quindi assistente sociale del comune di Teramo e poi che concluderà sotto il profilo amministrativo la dottoressa Valeria Cerquetti che era responsabile dei servizi sociali del comune di Teramo. È un argomento importantissimo, di grandissima attualità, legato al momento della crisi economica. Sappiamo che il problema della ludopatia, principalmente una delle nuove dipendenze, sicuramente la ludopatia, è un problema poco conosciuto ma che sta interessando tantissime persone. Quindi è l'invito a partecipare a tutti, dalle associazioni di volontariato, ai genitori, agli insegnanti, a tutti coloro che possono essere d'aiuto per scoprire dei sintomi, per capire i sintomi, per capire quali sono le prime azioni da fare quando una persona purtroppo cade in questo tipo di patologia.